buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione di calendario posturale oggi lavoreremo un po di allungamento e lo faremo in questa posizione rimanendo a sedere sui talloni per coloro che avessero un po di risentimento al ginocchio potete mettere una copertina arrotolata sotto il cavo del ginocchio o un cuscinetto oppure un cuscino un po più grosso tra i talloni e il sedere così da aprire un po lo spazio dietro al ginocchio posso anche metterli entrambi sia un cuscinetto sotto le ginocchia sia un cuscinetto tra il sedere e i talloni quello che andremo a fare è la seguente cosa metto le mani davanti alle ginocchia e poi piano piano le allungo sul pavimento cerco di mantenere il sedere quanto possibile vicino ai talloni le braccia si allungano se riesco appoggio la fronte sul pavimento ma non è necessario quindi una volta che ho allungato bene le braccia ho mantenuto il sedere un po all'indietro se riesco appoggio la fronte altrimenti la lascio semplicemente pendere il petto cerco di avvicinarlo un pochino al mento un pochino al pavimento quindi cerco di non avere la schiena arrotondata non avere la pancia in dentro ma apro un po la pancia tiro leggermente sul petto e mi dedico a fare ampi respiri soprattutto la fase di espirazione molto molto lunga lenta e rilassata e incominciamo le braccia continuano a stiracchiarsi in avanti mentre il sedere è come se fosse tirato da qualcuno leggermente all'indietro pancia aperta petto espanso testa rilassata grazie a tutti piano 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 riportiamo le mani alle ginocchia e premendo sul pavimento ci aiutiamo a tornare su se ho bisogno sciolgo un po le braccia così come posso sciogliere un po le gambe ci facciamo altri due giri di questo esercizio quindi sempre nella stessa posizione metto le mani al pavimento scivolo piano piano in avanti sento le mie possibilità se oltre un certo livello non riesco arrivare mi accontento e mi metto in posizione e respiro sedere un po all'indietro braccia che si stiracchiano in avanti pancia aperta petto fiero in direzione del mento e aperto ampi respiri soprattutto la fase di espirazione molto lenta e rilassata grazie a tutti piano 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 torniamo in posizione di partenza mani alle ginocchia spingo e torno su piano 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 chi ha bisogno ovviamente sciolga pure le gambe si può anche mettere in pausa il video e ripartire successivamente ci andremo a fare un ultimo minuto di allungamento quindi sempre nella stessa posizione sempre col sedere basso mi inclino in avanti mentre le mani scivolano distanziandosi quanto possibile dalle ginocchia se riesco appoggio la fronte ma non è necessario pancia aperta petto espanso ampi respiri rimango in posizione le braccia continuano un po ad allungarsi a stiracchiarsi il sedere rimane indietro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.